Musica Aprirà lunedì 22 marzo il centro vaccinale di Clusone nella struttura polivalente del centro sportivo. Si partirà con 288 somministrazioni al giorno, più di 180 volontari già disponibili a dare una mano. Un'onda anomala alta 7 metri, questo lo scenario peggiore ipotizzato dagli esperti dell'Università di Bologna nel caso la frana del Monte Saresano dovesse finire nel lago di Seo. Si tratta però dell'ipotesi meno probabile. Nastri e manine colorate fuori dalle scuole, l'iniziativa promossa a Clusone per far sentire la voce dei bambini e delle famiglie che chiedono un pronto ritorno in classe. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Lo avete sentito dai nostri titoli, inizieranno lunedì 22 marzo le vaccinazioni anti-covid a Clusone. Alla struttura polivalente di via Don Beppo-Vavassori si sta completando l'allestimento del centro vaccinale. Si inizierà con 288 somministrazioni al giorno per poi, si spera nel più breve tempo possibile, arrivare alla capacità massima. Vediamo. Il dottore Francesco Locati, direttore generale dell'azienda sociosanitaria territoriale Bergamo-Oest, oggi a Clusone, si sta approntando il centro vaccinale nella zona del centro sportivo. Quando aprirà? Sì, sono qui e ho voluto verificare personalmente l'andamento dei lavori di preparazione per il centro vaccinale che aprirà lunedì 22 marzo. C'è stata una grande concentrazione di sforzi e devo ringraziare l'amministrazione comunale e tutto l'ambito territoriale per aver supportato questa scelta, scelta che va nella direzione di creare un centro che ha delle grandi potenzialità per raggiungere gli obiettivi di vaccinare nel più breve tempo possibile larghe fasce della popolazione. Quante persone potranno essere vaccinate al giorno qui? Noi abbiamo previsto come capacità massima 10 linee di intervento dove ci saranno medici e infermieri che raccoglieranno le informazioni cliniche e poi procederanno alla somministrazione dei vaccini. E quindi con 10 linee vaccinali a capacità massima, una volta che abbiamo risolto anche il problema del reclutamento del personale necessario, potremmo arrivare fino a 1.500 somministrazioni al giorno. Ripeto, la capacità massima che è prevista per centri di media grande dimensione. Così come è previsto anche dalle linee di guida regionali che ha chiesto di poter individuare in ogni provincia delle sedi che possono fare dei grandi numeri. Perché questa è la sfida che ci si prospetta davanti, fare grandi numeri per raggiungere l'immunità di gregge. Quindi ci siamo dati tempi anche con il livello regionale di finire il più presto possibile. Per centrare questo obiettivo si sono messe insieme diverse forze. Certo, la SST Bergamo Est ha messo a disposizione tutte le sue risorse, abbiamo individuato i responsabili. C'è una responsabilità di tipo generale in capo alla SST Bergamo Est che poi necessariamente deve tradursi anche in referenti della macchina organizzativa così importante anche qui a Clusone. Accanto c'è il personale medico-infermieristico che sarà impegnato. Il personale degli uffici tecnici che hanno reso possibile e monitoreranno poi anche la situazione come vedrete poi dal vivo quando si entrerà nel vivo delle operazioni. E poi tutto il personale volontario che è stato impegnato in questa fase nell'allestimento e nella fase successiva nella garantire che il flusso delle persone che vi accedono venga svolto con regolarità. E quindi già da adesso io voglio esprimere il mio ringraziamento per tutto questo lavoro sinergico per raggiungere gli obiettivi di cui parlavo prima. Lo abbiamo sentito per raggiungere questo obiettivo. È stato importante il lavoro di squadra che ha coinvolto l'amministrazione comunale di Clusone e parecchi volontari. Sentiamo che cosa ci ha detto il sindaco di Clusone Massimo Mostabilini che fa anche il punto sui contagi nella cittadina. Siamo con il sindaco di Clusone Massimo Mostabilini. Finalmente si apre. Finalmente si apre. Lunedì si inizia. È un segnale molto importante per la nostra gente e per i nostri cittadini. Questo segnale appunto... L'altro giorno abbiamo parlato tanto di speranza. E questa è appunto la speranza che si riesca finalmente a sconfiggere questo virus e a tornare quindi il prima possibile alla vita normale. Quindi siamo molto contenti. Avevamo fissato questa data del 22 di marzo proprio come data per l'inizio. e questa data finalmente siamo riusciti a farla rispettare. Un aspetto bellissimo che si è verificato, ma come tra l'altro si verifica sempre quando ce n'è bisogno, è veramente la partecipazione di tanti volontari, che sia nella fase di allestimento del punto vaccinale, che poi anche nella fase di gestione, perché questo procedimento che andrà avanti per tante settimane, ha bisogno comunque che ci siano tanti volontari che si alternino tutti i giorni, sette giorni su sette, su turni di dodici ore, per dare una mano, per dare informazioni diciamo agli utenti, quindi per direzionarli e per fare in modo che tutto si svolga quindi in maniera ordinata e corretta. Veramente sono già arrivate oltre 180 disponibilità da parte di associazioni, ma anche da parte di liberi cittadini, oltre che ovviamente al ruolo importantissimo di protezione civile, che ovviamente subito ha risposto alla chiamata. Quindi veramente un grazie a tutti, un segnale bellissimo di comunità, un segnale dove tutti si adopereranno appunto per raggiungere l'obiettivo. In questi giorni qui con noi ci sono il gruppo degli alpini, quindi immancabili alpini, il gruppo di Clusone, che stanno dando una mano ai dipendenti di ASST a installare tutte le cose che servono per allestire il punto vaccinale. Quindi un grande grazie ancora anche agli alpini. E a proposito di coronavirus, com'è la situazione a Clusone negli ultimi giorni? Allora, a fronte dell'impennata che c'era stata nella scorsa settimana, questa settimana diciamo che i numeri sono in calo. Quindi abbiamo avuto ancora diversi nuovi contagi. In questo momento positivi a Clusone ci sono 18 persone. Quindi rispetto alla settimana precedente, però si sta avvertendo una fase di plateau, come viene definita dai tecnici, e quindi sembrerebbe che non si stia andando verso un peggioramento. E questo è già un ottimo segnale. Quindi veramente siamo fiduciosi e speranzosi che questa terza ondata abbia già raggiunto il suo picco massimo e che si vada quindi verso una risoluzione, quindi un minor numero di contagi. E purtroppo però la campagna di vaccinazioni anti-Covid in Lombardia continua ad avere problemi. Già ieri sera vi abbiamo parlato degli anziani dell'Alta Val Seriana convocati a San Giovanni Bianco. Oggi la reazione degli amministratori del territorio. Sono arrivati degli SMS di convocazione per i vaccini per persone che abitano in Alta Val Seriana al punto vaccinale di San Giovanni Bianco. Come vi siete mossi come amministratori comunali in funzione di questa situazione? Sì, ieri mattina è arrivata questa notizia con tante persone che mi chiamavano e mi chiedevano spiegazioni come nella veste di sindaco e ovviamente questa comunicazione andava a portare grandi disservizi e disagi soprattutto calcolando la fascia di età interessata che dovevano farsi 50 km in andata e 50 di ritorno per eseguire la vaccinazione. Ci siamo subito messi in contatto con i vari ATS, SST con il presidente dell'Assemblea dei Sindaci del distretto da Bergamo Est con l'ambito territoriale numero 9 con i medici di medicina generale insomma con tutti chi poteva avere voce in capitolo sull'argomento e proprio nella giornata di oggi è stata inviata questa lettera condivisa da parte della dottoressa Vigoni presidente del nostro ambito a chi di competenze insomma in regione per cercare di evitare ulteriori disservizi da parte della piattaforma Aria che gestisce le convocazioni e la gestione dei vaccini. Nel frattempo c'è da dire che sono arrivate anche convocazioni convocazioni comunque per nostri cittadini per il punto vaccinale di Clusone che verrà attivato proprio nei prossimi giorni se non ricordo male proprio lunedì lunedì 22 quindi non dovrebbero esserci più dei disservizi. Il mio consiglio personale è quello che comunque chi ha ricevuto la convocazione a San Giovanni Bianco di non dare visdetta a questa convocazione perché il rischio forse sono troppo evidente però il rischio che poi vada a prolungarsi troppo la prossima data al prossimo appuntamento secondo me è reale quindi consiglio di eseguire la vaccinazione anche se ovviamente con dei disagi logistici di distanza. Voglio sottolineare l'importanza per anche una piccola comunità come la nostra di Premolo di avere a disposizione il servizio di trasporto da parte della Fondazione Casa dei Premolesi che già ieri mattina aveva organizzato tutti i trasporti per i nostri cittadini che avevano la prenotazione a San Giovanni Bianco e magari non avevano l'opportunità di essere portati dai caregiver dai propri parenti. Quindi un grazie di cori da parte mio da parte dell'amministrazione comunale di tutta la cittadinanza a tutti i volontari della Fondazione per il grande servizio che ci offrono come sempre. A proposito di Premolo com'è la situazione relativa ai contagi in paese? Allora la situazione è fondamentalmente sotto controllo. Nelle ultime tre settimane abbiamo avuto tre casi di positività tutti tranquilli uno per settimana di media. C'è da dire che negli ultimi tre giorni abbiamo avuto tre ulteriori positività. Quindi ripeto come sempre lo ribadisco di fare molta attenzione perché la situazione generale non è ancora delle migliori assolutamente. Quindi la massima attenzione e il massimo rispetto delle regole che possono essere e sono pesanti per tutti ma il massimo rispetto delle regole per uscire al più presto da questa situazione in attesa anche di una vaccinazione per una larga parte della popolazione. E chiudiamo la pagina dedicata ai vaccini torniamo a parlare del rischio frana sul lago di Seo un'onda anomala alta 7 metri questo è lo scenario peggiore ipotizzato dagli esperti dell'Università di Bologna nel caso la frana del Monte Saresano dovesse finire nel lago di Seo si tratta però anche dello scenario meno probabile ma sentiamo Vladimir Lazzarini Si è tenuto ieri in videoconferenza l'incontro con i tecnici incaricati dalle comunità montane del Basso Sebino e dei laghi Bergamaschi che stanno coordinando la pianificazione di emergenza di protezione civile per gli abitati interessati dalla potenziale frana del Monte Saresano a Tavernola agli enti pubblici sono state illustrate le prime risultanze delle modellazioni delle onde che si potrebbero formare nel lago in seguito al potenziale collasso del materiale di frana le simulazioni sono state effettuate partendo dallo scenario più catastrofico che però è stato valutato come il meno probabile ma al quale va ricondotta tutta la pianificazione di emergenza in corso di preparazione se tutta la frana oltre 2 milioni di metri cubi si staccasse contemporaneamente con 650.000 metri cubi di roccia che finirebbero nel lago tra il cementificio e la località Pontel si genererebbe un'onda anomala alta 7 metri che investirebbe dopo pochi secondi il centro abitato di Tavernola e dopo poco più di un minuto arriverebbe a Monte Isola l'onda si allargherebbe a tutto il Sebino e nei punti più lontani raggiungerebbe il mezzo metro di altezza questo lo scenario più catastrofico ipotizzato dall'università di Bologna il quadro complessivo emerso dalle simulazioni è comunque decisamente più rassicurante rispetto alle notizie uscite nei giorni scorsi sulla stampa a ciò si aggiunge il fatto che anche la frana sta costantemente decelerando sino ad uscire dalla fase di attenzione prevista nelle procedure di gestione del rischio vi abbiamo parlato più volte dei problemi per la carenza dei medici di famiglia nell'ambito dell'alto serio con i comuni di Gandellino Gromo Valbondione e Valgoglio anche a Cazzano Sant'Andrea la situazione ha spinto l'amministrazione comunale a farsi sentire ne abbiamo parlato con il sindaco Sergio Spampatti la carenza di medici di famiglia sta creando problemi anche sul nostro territorio anche a Cazzano ci sono stati dei cambiamenti com'è la situazione? Sì il 2020 al di là dei problemi che avevano dalla pandemia c'è stato anche un po' il problema dei medici di base perché è andato in pensione due dottori uno soprattutto a fine 2019 che aveva mutuati di Cazzano e di Casnico quasi tutti tantissimi di Cazzano sono stati sostituiti in via provvisoria da delle dottoresse che però da fine ottobre hanno abbandonato l'incarico e quindi da fine ottobre i mutuati tantissimi mutuati di Cazzano non hanno il medico di base la TS è intervenuta col servizio CAD con l'assistenzialità a Gandino e adesso però avremmo bisogno di un medico in paese da fine marzo però arriveranno due nuovi medici sì c'è l'ufficialità di una notizia che sappiamo già da tempo arriveranno due nuove dottoresse che però andranno a Gandino quindi a livello di ambito perché ricordiamo che noi in ATS abbiamo l'ambito della Val Gandino dei cinque paesi saremo ampiamente coperti perché con l'arrivo delle due nuove dottoresse saranno ben nove i dottori che opereranno nel nostro ambito c'è un problema di territorialità nel senso che le due dottoresse andranno a Gandino entrambe che già è abbastanza coperto da altri dottori e restano scoperti alcuni paesi soprattutto Cazzano Sant'Andrea non avremo abbiamo praticamente solo due dottori per complessive otto ore in ambulatorio che non bastano assolutamente per tutti i nostri 1.600 abitanti la maggioranza come ho detto prima aveva il dottore che è andato in pensione a fine 2019 quindi sceglieranno sicuramente una delle neodottoresse però dovranno andare a Gandino non è un grosso problema perché la fascia chi ha la macchina e chi può muoversi senza problema diventa un grosso problema secondo me e l'ho fatto rimarcare varie volte in varie lettere che ho fatto in ATS per la fascia più debole pensiamo agli anziani e chi non è automunito che sono anche quelli che solitamente usufruiscono di più dal servizio del medico di base quindi c'è questo problema e l'ho ripetutamente fatto notare in ATS ATS però ragiona su base d'ambito e su base d'ambito la Val Gandino con l'arrivo delle due neodottoresse sarà coperta come ho detto prima ecco vi siete mossi anche in altro modo per cercare di avere dei medici in paese sì sapendo appunto che queste due neodottoresse avevano intenzione di venire in Val Gandino ci siamo mossi subito nei loro confronti come giunta li abbiamo incontrate abbiamo proposto il nostro ambulatorio che è dotato di tutti i servizi internet telefono è già è bello è centrale vicino alla farmacia e l'abbiamo proposto anche in forma gratuita proprio per non per cercare di di assecondare le loro esigenze abbiamo addirittura proposto anche uno stabile che avremmo sistemato la vecchia biblioteca l'avremmo sistemato a nostre spese per renderlo funzionale a un ambulatorio medico purtroppo però la loro scelta è stata diversa è insindacabile per noi quindi non abbiamo potuto fare altro che prenderne atto e vi parliamo adesso di un lieto evento la nascita di una bimba ve ne parliamo perché la piccola è nata in auto e non in ospedale mamma e papà di Ardesio stavano raggiungendo l'ospedale di Seriate per il parto ma la piccola aveva come si dice in questi casi fretta di nascere è venuta alla luce nel parcheggio dell'Esselunga di Nembro con l'aiuto di due ostetriche che hanno raggiunto la mamma e l'hanno aiutata nel parto in seguito il trasporto in ambulanza all'ospedale di Seriate la piccola si chiama Chiara ed è la terzogenita della coppia bambini e famiglie soffrono la chiusura delle scuole a Clusone oggi è partita un'iniziativa per chiedere che tutti soprattutto i più piccoli possano tornare al più presto in classe vediamo oggi sono comparse delle manine colorate fuori dalle scuole di Clusone ad ideare questa iniziativa un gruppo di mamme come è nata questa idea? Allora seguendo i social abbiamo visto diverse forme di tra virgolette protesta che si sono sviluppate in altre città a Bergamo anche in altri paesi della provincia proprio per far sentire la voce dei bambini dei genitori contro la chiusura delle scuole abbiamo quindi pensato così un passaparola tra mamme di estenderla e di provare a lanciare qualcosa anche qui a Clusone Ecco in cosa consiste l'iniziativa cosa bisogna fare? Allora molto semplicemente abbiamo pensato a dei nastri colorati da appendere sui cancelli sulle ringhiere delle nostre scuole con attaccata una manina dei nostri bambini colorata con una scritta il nome perché la manina perché la mano alzare la mano è il modo con cui i nostri bambini chiedono di essere ascoltati a scuola e quindi anche in questo caso i nostri bambini chiedono di essere ascoltati perché il bisogno di tornare a scuola credo che tutti noi genitori lo sentiamo da parte nostra perché organizzativamente è difficile ma soprattutto da parte dei nostri bambini che hanno bisogno di socialità hanno bisogno di apprendere nel modo più consono e più corretto per loro che è a scuola in classe con le loro maestre e i loro compagni quindi si tratta semplicemente individualmente quando si può quando si riesce di venire e attaccare questo nastro con la manina fuori dalla scuola così per far vedere e far sentire le voci dei nostri piccoli l'iniziativa è stata condivisa con i dirigenti del plesso scolastico dell'istituto comprensivo di Clusone e con il CDA e la direttrice della scuola dell'infanzia Clara Maffei che hanno appoggiato e apprezzato l'iniziativa dei genitori ed è stata condivisa anche con l'amministrazione comunale per il tramite dell'assessore all'istruzione Flavia Bigoni che molto diciamo piacevolmente stupita e colpita dalla nostra iniziativa ci ha assicurato il loro sostegno e il loro pieno appoggio si tratta di una iniziativa pacifica colorata e che vuole essere prima di tutto un gesto di amore verso le nostre scuole noi amiamo la scuola amiamo quello che dà ai nostri bambini e non vediamo l'ora di tornare e sulla chiusura delle scuole abbiamo chiesto un parere a Daniele Novara pedagogista e formatore fondatore del centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza molto conosciuto anche per i suoi libri sentiamo che cosa ci ha detto è una scelta sbagliata decisamente sbagliata che non ha vere motivazioni specialmente per quanto tiene nidi scuole materne e tanto più la scuola primaria peraltro si chiudono le scuole in Italia mentre in tutta Europa sono state riaperte anche questa è una decisione piuttosto originale noi italiani non manchiamo di originalità come è noto però questa è una decisione che danneggia fortissimamente i bambini le famiglie i genitori e anche tutto il tessuto economico produttivo del nostro del nostro paese io ancora adesso mi sto chiedendo come è stato possibile prendere una decisione così avventata in mente da un lato c'è un tema un po' demagogico della serie chiudiamo tutto e siccome in realtà la politica non riesce a chiudere tutto perché le lobby sono molto molto forti la lobby scolastica è nulla lo zero cosmico i bambini i ragazzi non votano e quindi nella logica demagogica del chiudere tutto in realtà poi si chiude solo la scuola insomma far vedere che si sta facendo si sta facendo qualcosa ma non ci sono riscontri scientifici bambini e ragazzi non si ammalano nel modo che purtroppo conosciamo anche la contagiosità dei bambini è tutta da dimostrare non esistono tracciamenti di bambini che hanno ucciso i nonni come dice la vulgata che sarebbero i killer dei loro poveri nonni in realtà è proprio il contrario visto che poi i dati sulla bonus babysitter hanno rivelato che il 70% di questo bonus è finito proprio ai nonni immagino che non sia stato dato il bonus babysitter ai nonni per farsi ammazzare dei nipotini per cui non è non è chiaro e l'unica cosa chiara ecco è questo che c'è in corso un maneggiamento molto forte molto devastante dopo un anno andiamo dopo un anno quindi una situazione prolungata nel tempo specialmente nei confronti dei bambini l'area più critica è il periodo 3-6 anni un bisogno estremo di uscire di casa di uscire dal nido familiare e di trovarsi in un ambiente come dire più neutro ecco dove possono vivere i loro apprendimenti i loro processi di autonomia e le loro conquiste nell'ambito dell'autoregolazione evolutiva e vi proporremo un'ampia intervista a Daniele Novara all'interno dell'anteprima Target in onda lunedì alle 19 sul canale 88 e alle 22 e 10 sul canale 218 del digitale terrestre e adesso i programmi in onda su Antenna 2 questa sera il canale 88 propone alle 20 e 30 il settimanale Blue Sport alle 21 e 45 Manenobiscum alle 22 e 10 Salus TV alle 22 e 30 la seconda edizione del telegiornale alle 23 eventi più salute e news il canale 218 alle 20 caccia ed intorni alle 21 e 30 il telegiornale il canale sportivo 628 alle 20 e 30 Antenna 2 Sport alle 21 e 30 Ski Magazine Vi segnaliamo anche un appuntamento in onda domani alle 18 sul canale 88 vi proporremo la messa dalla Basilica di Clusone in occasione del 64 del coro idica in questo modo anche i coristi che a causa della zona rossa non possono raggiungere Clusone avranno la possibilità di seguire la celebrazione possibilità naturalmente anche per tutti per tutte le altre persone interessate e adesso l'almanacco domani è domenica 21 marzo il sole sorge alle 6 e 16 e tramonta alle 18 e 39 la luna è al primo quarto sorge alle 10 e 24 tramonta alle 2 e 48 di lunedì è tutto anche per questa edizione grazie per averci seguito vi ricordo dopo il telegiornale l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Matteo Lacavalla buona serata e buona domenica a tutti l'appuntamento 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 l'appuntamento